ci siamo ci siamo a vallavulla vallavulla quarta non c'è però eh quarta non c'è c'è il quarta da cetellaio chiediamo se viene vieni a giocare cetellaio c'è il pellaio il pellaio hello ciao ecco squad streaming 3 ora ecco la madonna non vedevo l'ora oh finalmente dai fai vedi il lubanski sul discord dai dai io lo dico il pellaio non c'è però il pellaio ah c'è c'è il pellaio pure un attimo di pazienza signori che invitiamo invitiamo dell'aio eccoci eccoci buonasera il pellaio è il pellaio entra nella lobby sei pronto a toccare il palazzo e il killer il palazzo lo tocchi dentro il pellaio già lo sento Allora mi piace lo squad stream Mi piace Hero Zero Gamer Grazie per i 12 lunghi mesi Un anno intero per Hero Zero Gamer Che si aggiudica la carta stellata dagli Ace Gamer Grazie Continuo supporto Fiero Allora fa vedere se funziona Questo Questo squad streaming Sai Guardando squad mode Fa vedere Oddio che fieri Oddio che fieri Madonna Stupendo lo squad mode Stupendo lo squad mode Bello proprio Ci sta Vediamo se trova una partita Va Sì ma dai Partita troll con i ganci Se facciamo i ganci non vinciamo Tanto le spawnano Le spawnano E poi c'è Mazzaro Power Con i 3 mesi Tris Tris Grazie Zebbone Per rendermi le salate Fiere Grazie a te per esserci K.Sandar Grazie per il quarto mese totale Grazie dei re-sub Signori miei Il motto di noia Quattro mesi Per lui Anche lui Quattro mesi Pure lui ha voluto il rinnovo Con le live Non more più di noia Gioca che ti passa 98 Prime sub Benvenuto E' l'esercito Degli Ace Gamer Fa vedere l'IP di chi è va Se ci becchiamo È italiano no? Fa vedere No è tedesco È tedesco Dai Uccia Stelpeppe Luba metti pronto Sì 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 Guarda che te Botta a mare Sta settando la fierezza Sì Stavo con farmacia Non mi pare il caso Prima ho beccato lo sniper Da survivor Che mi body bloccava Lì Quentin Quella partita con l'antress L'ho vista Che dovevo fare lì Ha rotto un pallet Forse trollando E quindi sono finito nel basement Allora me la so goduta Quella partita Eh ma se fai così 3 contro 1 Che vuoi fare? Schifoso Non fattibile Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ora che siamo col team Mi posso permettere Non ha ruin Ha il brivido della caccia però Vai vai Penso è uscito il pellaio Spello tutti i totem Che spello Bella spella Il pellaio paura non ne ha Non c'è ruin Io non lo farei Io lo lascerei No no Shala puoi toglierlo Anzi mi fanno pure un favore se lo toglierlo Si ma se lo togli Potrebbe essere una sorpresina No no è la maledizione Ah il thrill Si si il thrill Si se non è altri maledetti è il thrill per forza In telaio il biscotto Ne ha poca di paura Sbuccia Trova e sbuccia Non si fa problemi Scaccia le mosche E' scarso? Che succede? Ma è un valente solo a me E' un valente solo a me Tu mi ci hai preso Ah o là due Ragazzi Questa è cazzata Che c'è No no Na Non tu laio Ah ma ancora a brivido della caccia Questo c'è un brivido di disgusto Ciao Ciao Crash Black Bentornato Questo Dream Team si vede che è stabile e coordinato No Sbucciato, sbucciato proprio. Quella io ti ha finito. Dai te ce penso io. Pensaci di Matteo. Sei già te lì? E' il palazzo, dai. E' il palazzo. Ti salvò il Borrod? Sì sì. Lascia a terra, l'ho accorzato. Lui era lui, ha ben due il bingo, guarda eh. Eh ma c'ha c'ha il coso, non si attiva il Borrod, c'è il visibile. Oddio guarda l'aveva dietro! Ma che è? Controlla se c'hai i vestiti? Voleva vedere se c'aveva qualche vestitino più carino, ma guardate. Ah! Mamma mia. Ma d'ost'è il totem maledetto raga? Buh! Ora 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 si va... Ah ola! Trovato! Mo' viene qua. Ecco gli sto a fa' trucca il totem! Ok ok, io gli sto a togliere il totem. No ma mi scappa da ridere, questo è scarso. Don't bully me, please. Mamma mia. Penso ci converrà a fare i totem raga, comunque. Eh, chiaramente Survivor, beh, da HM. Sono in premade che fai, è un gioco di Survivor, stai tre quarti durante il lobby, lascia a quarti le palle, no grazie, no grazie, viene qua. C'è la Dawn marrone, eh? Sì, non piega la macchina, non piega la parte, non piega l'ora. Mi vuole. Continuo il jam. Sto a rompere l'ultimo totem. Oh! No, ho rotto i pallets lì, no! Eh, non c'erano i pallets altrove. Oh no, hai fatto bene. Quanti totem mi abbiamo rotto? Tutti. Tutti? Davvero? Tutti. Allora vai, chiudiamo. In diretto, bro. Eh, ma chiudete, che vuole me? Che stiamo facendo, stiamo facendo, stiamo a 60. Ah, ora no. Qui, tocca a morpalato. 90. 3. 2. 1. Mi vuole, eh? Sto già avrendo, sto già avrendo. Diventate visibile? Diventate visibile? Versus bling? Ah? Ah! Incozza va! Berta, berta! Io quasi aberto l'altra. Caccia dei muschi Caccia dei muschi Mamma mia Avvilinato 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 Dark M98 Grazie per il quarto Mese Finalmente Survivor Si te l'ho risposto prima Dream Team Ripeto no? Stai in lobby Col killer al quarto d'ora Ma vaffanculo va Bezzabene bezzabene Stapete si stunza Stapete si stunza Ciao 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 Caccia dei muschi Ho trattato non bene Non aveva perk Bella topscore Interessante Vabbè era anche 15 Ma perché era anche 15 Eh perché Bully Simulator Bully Simulator Tutto un vento Mi convenerebbe a comprare il demogorgone dopo il buff Ma se Se sei un fan di DPD Se sei un fan di DPD Se sei un fan di DPD Ma si ma che c'era quello Quella è la grulla era Ma questo disinstalla il gioco l'ha comprato per il demogorgone Lincone Ringrazio per la tifoseria A prezzi di beat Ringraziamento al nostro Top Cheerer Del canale eh Ringrazio a Lincoln PJ Salt Mi sa Mi sa un po' Mi sa che quando stava mettendo il sale Si è scoperchiato proprio Il contenuto di sale Ha messo tutto Il sale L'ha versato tutto Mamma mia Alla fine mi stava tunnelando Mi pretendeva Hai preso Mai preso killer Hai preso DLC nuovo Buono Non è il massimo Il demogorgone Ora come ora Nel mid low DT è disinstalled team Madonna ragazzi Sbucciato Sbucciato bro Ho fatto due uncinate Mamma mia Mamma mia Vediamo se trova una partitina Quando gli altri prendono il demogorgone io prendo legion e team Sono un po' come internet explorer Che vuol dire Mi ha buttato fuori Errore 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 Così a caso Li invitiamo Li invitiamo Li invitiamo Il demogorgone Il demogorgone Il demogorgone Lo metterei forse sopra Forse al dottore forse Ma insomma Perché c'ha le trappole Il dottore non ha la mobilità Però Tipo il maiale Già è più forte del demogorgone Il demogorgone Perché può Fattare la partita con le trappole Quindi per essere più scarso Per esempio Della pig Vuol dire che ne è forte non è E' tra i più scarsi eh Se devo proprio essere sincero Se la metti così E' intorno al livello del trapper Intorno al... Così Più o meno Più o meno Potrebbe anche essere un po' meno forte Non lo so Intorno al livello del trapper Lo metterei Non è un gran che Ora come ora La tiglia è molto più forte Ghostface è molto più forte Miles è molto più forte Leatherface secondo me è più forte Che c'ha il one shot E difende anche bene gli uncini La pig secondo me è più forte Cioè l'unico Ma sarà... Se non è il penultimo più scarso Dopo il dottore Il dottore è proprio cacca Perché il dottore non c'ha niente proprio Non c'ha un cazzo Non c'ha neanche la mobilità La hug è più forte Perché metti più trappole Più velocemente E viaggi instant Insomma E' più forte la hug E' più forte Freddy è più forte Freddy è più forte Meglio legion E' intorno al livello del legion Direi più o meno In termini di forza Un po' legion Così C'è solo il legion E il dottore forse Sono un po' peggio Ok non è italiano Vai mettete pronto allora Il clown Guarda Guarda Se non fosse per il ditino che shotta Lo metterei Lo metterei Sopra Però è sotto il clown Perché il clown Può usare quella don che è forte il ditino E' un one shot Il demogorgone non ha one shot Quindi il clown è un pelino Però il clown non ha mobilità Lo sai che Si è intorno al livello del clown Perché il clown Al one shot però E' A zero pressione ai gen Zero Quindi secondo me Si colloca Intorno a Frizzino, clown, legion In quella zona lì Tra Trapper, legion Pagliaccio Frizzino Lì Una roba lì Intorno a quelli Intorno a quel livello là No, cioè fa schifo Non è Vai Il rancid Rashtalud 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 Per laio Qua c'era un totem eh Eh, stai facendo il suo lavoro Cacciatrice A voto Bene Io cambio gen Cambio gen Non voglio perdere tempo Si Ce n'è uno qua Centromappa qui Ci segue Non accetta Che andiamo via E allora si turnano Mi ama Eh Ho preso il palazzo Cagare Lo metto accanto al geno Questo è intelligente World World time Ma hai rotto quel totem Primo Lo hai fatto in tempo? Eh Sì Quello di primo L'ho rotto Perfetto Siamo a tre totem allora Vediamo se c'è vocazione Vuole me Vuole me Vuole me Vuole me Perché sa che ha il DS Continuiamo al genno Sì sì mi lancia la merda Mi vuole Mi pretende Mi esige guarda Ricarica 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 Mi ha lasciato Cura 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 Quale Fanta L'avete chiuso quel gen Iniziale Sì 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 Vai Vision se si sa mettere pressione può essere già buono Sì buono ma non forte proprio Allora qualsiasi killer forte usa decentemente i killer Madonna Appunto Però ci sono ci saranno sempre i killer più forti e i killer più deboli Il Legion non è tra quelli più forti Però non per questo non può essere usato a modo Giusto per chiarire Però il Demogorgone non è non si colloca tra i Vado al save Assolutamente Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Io c'ho sempre sfiga Mi vuole eh Guarda caso No 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 mi vuole proprio eh No di nuovo no eh Eeeh dobbiamo cambiare zona non facciamo questo Se no ce l'abbiamo tutti del la Mi vuole Mi vuole mi vuole mi vuole Attraverso la finestra Eeeh Paura che mi faccia il tunnel Vado io al save Devo provare a usare il Dead Hard Ma non pensavo mi prendesse Potrebbe usare il mirino questo eh Perché mi ha preso attraverso la finestra da lontano Se non esce il mirino No non è vero Guarda che io c'ho un monitor Che volendo Premo e c'è il mirino Quindi la gente lo usa Sfattiamo sto mito Io non uso la cacciatura Perché mi rifiuto di usare il mirino Però la gente non si fa problemi eh La gente non è come me E' disonesta Io certe cose non ne faccio Però un altro lo fa Un altro al posto mio lo fa Sapete come Lo dirò io Io non la uso mai Perché non mi fa schifo Io la userò solo nel momento in cui Metteranno un mirino incorporato Se no Io non la uso Non la voglio usare Mi rifiuto Mi fa schifo Però va boh Eh se mi prendeva pure quello Vuole me vuole me mi sa Si di nuovo Si si tunneling Non accetta però No no Tunneling Cazzato E' solo me E' E' Naruto Lasciamo un gen Oh Vai vai a ricaricare stronza Vai Wuh Si si con la testa Li ho fatto io Si si con la testa Li eh Ma lasciato comunque Non è qui Io ho voluto tre tode Ma non ne vedo altri Posso vedere tutti voi Non per forza Devo non usare il mirino Ma lo fanno Io ho voluto Vuole sempre dare il beneficio del dubbio Io no C'è gente che appiccica lo scoccio allo schermo Chi usa il mirino dello schermo E' come dire E' come dire No Zepp secondo me la gente è onesta No no la gente non è onesta Ragazzi Dai Uscite un po' di casa Guardate un po' com'è il mondo reale E' molto cattivo il mondo reale Non è onesto E' molto bello Come pensate voi La gente è E' onesta Se può cittare lo fa Se può usare un cheat Sen si è scoperto lo fa E' così E' così E' così Come mettere 50 euro per terra E pensare No ma la gente non se lo ruba Il biglietto da 50 euro Ma che lo lascia di per terra Ragazzi Non voglio un cheat E' così E' che voi Alcuni di voi Pensano che mettere il mirino Sia difficile No no Facile eh Troppo facile Vengo io va Eh ma sta proprio lì vicino ancora Eh no eh Vuole me Aiutaci il rossa di nuovo No no Non vuole questa campionata Eh ora io che faccio Chiudo il gen Mi chiudo Sta a dire il Fanta No Torna Torna Mi serve uno col bolo No tu vai a aprire Ce l'ho io il bolo Sto ad aprire Sì Eh ma devo aspettare una lina Se no Aspetta C'è sta anche il Fanta C'è sta anche il Fanta Nooo Easy Sto prendo l'uscita Quella dove sta praticamente Il gen in mezzo a quelli tre ringhiere Capito no? Di tre file Si 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 Il capone non è la sua trattura Non voglio Ma tanto c'è il DS Vai 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 apri 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 Ma chi è che te fa di blocca così? Eh eh l'ha dovuto fare pure il D-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D Giovioc Grazie al terzo mese ci fa Dream Team for that win No for the win For the win For the win Giovioc 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 Mi ha buttato fuori dal team Eh belle le nuove lobby Eh madonna Dice che funzionano bene Non ci sarà più il bisogno di rinvitare tutti quanti ogni volta Amici si Ma vi posso invitare? Non mi fa Guzma Eh dovete tornare al menu principale Non mi fa fare Ci sono ci sono C'è sto Vabbè riavviamo il gioco o fammo prima Spè 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 no no non fallo spè Porta come ora non mi arrivano in giro Ora ora posso Uno due tre Ok Non mi è arrivato Ma come no? Unisciti da Steam Ora si Ora mi è arrivato adesso Gisciabile Mele Appena tornato in live Come vanno le partite con il Dolce Team? Bene Due fatte e due vinte Zero su quattro entrambe alle volte Easy Gigi Easy Chris29C Ti ringrazio per il Prime Sub per il secondo mese Grazie del bis Poi c'è Igun65 Eribello 777 Grazie dei Prime Benvenuti da noi stasera Ben arruolati Ehm Michele No Michele Kna Kmov Oh Pazzo del sesto mese Mezz'anno da noi eh Nuova carta Gisgamer per te Un altro Bis ce lo fa Dan 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 Danin Gamedz Malasera Zeppone, malasera a te Bentornato Per un altro mese Vediamo un po' chi sarà il terzo pretendente Potrei un gioco fiero Il lunedì mi mancano i tempi di Resident Evil 4 Anche a me un po' Però ci serve un gioco bello corposo Che la gente apprezza Qualcosa che proprio piace piace Potremmo fare un Vice City Ma non lo so Avevamo fatto un San Andreas Non lo so Ho valutato un po' di cose Ci devo pensare Ci devo pensare Perché se porto un gioco Voglio portare una cosa che veramente piace Piace Insomma No Dark Souls No, non sono da Dark Souls Ciao Mr. Pie Buonasera Ma tu sei quello dei 300 euro Sei quello fiero Zio Peppe Gold Ieri, ieri Ieri proprio Lasciamo stare Lasciamo stare che è successo ieri Hola Gruel Souls E' il palazzo Eh, Fanta Eccolo Sto in caricamento Non è italiano Ma lagga un po' Che sti cazzi Tanto 160 140 Bello Bellaio Cut quest Dai, chi è cut quest? Sono una trollata Qualcunzo di game piace Ma non è Cioè 160 E che vuoi fare? E' così il gioco Finché non escono i dedicati Possiamo aspettarci al massimo Al minimo Meglio dire 100 ping Non di meno Se ho culo 87 Alcune volte Ma proprio raro Raro E' veramente raro E' trovare dei ping buoni Su DVD Vai Doom Ma Doom l'ho già finito su YouTube Quello nuovo l'ho già portato Ecco E' un ciscione Eccolo E' un ciscione Io prevedo un rage pit Danza ragione Poi comincia Senza ruin Arriva Eccas Caccia le mosche Madonna Peccato Caccato C'è Cascparente Raro 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 Mami scappa Da ridere Dio come la Mi vuole Di nuovo Prova a fai lunge a caso Pensa che liscia un po' Torna al gen Prevedo un pit Ma in due no Bell'incazzato Credeva È lisciata la finestra Secondo me è scritta Altri due gen Mi vuole Mi vuole Ah regà Tre gen Ma è cominciato adesso Ma l'ha lasciato Ah vabbè Abbassato il palo E ti metto il piccolo Sto sempre a fare Ma si impegna a sgalciare Pensa che possa essere utile Mi vado Pit stop Mi stiamo a far pit stop Oh l'ho incanzato Oh questo sta bollendo il sangue nelle vene Guarda Sto me quando arriviamo a zero Potrebbe scappettare A zero cent Pit stop Allora senti sto suono Allora senti sto suono Dai 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 però così perdiamo i pip Occhio occhio Ce l'è dietro Ce l'è dietro Lo so lo so ma Il no head Non ce l'ha il no head Sto prendo una porta vicino allo shack So pericola dove è uscito lui Mi devo curare che qua Ha usato la trappola al maledetto Una aperta Attenti che potrebbe prendere il perlaio Ce l'ho io No non ce l'ho più Non mi vuole a me Mi vuole ora Apri 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 perlaio So io sto prendo sto sto prendo Ho aperto aperto Ma ti va di blocco Eh ma mi serve mi serve Ehm thedard Aspetta Casual thedard Zeruncini Ahah Ah Fantastica Te la morendo da ridere per la musica Zeruncini 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 Ma immagino nessuno ha fatto il pip comunque No zero pip No io quasi è per un'attacca Mamma mia Ha bullizzato male poraccio Di nuovo errore ci da ora No ho messo Io ho messo Io ho messo il counter dei zero su quattro che fai Siamo a tre mesi Il counter dei palaci che tocchi Tre partite Tre partite tre zero su quattro Grazie asset per il quarto mese Ti profumo Nell'esercito degli skin Grazie asset Quarto per te E non solo 200 bits Nanz Un saluto al premade Più fiero Quale premade Può essere più fiero del nostro Non lo so Prezzo sia R sub che Sti 200 bits Molto generoso stasera Lobby zero zero Mi fa il prime Benvenuto Nell'esercito degli skimmer E cembra 92 Tier 1 Quattro mesi Anche per te Anche per cembra Altri quattro mesi Grazie mille Un'altra partita Sperando non ci di errore Eh Pare di no stavolta Quel gioco horror Che Che ha sto gioco Lo dovete sempre togliere Ah di horror Non ha niente sto gioco Questo è una macchina Che horror c'è su DB Dai Horror È un gioco comico È un meme BD Ma questo si riussem Quando due frag in live Quando Ma quando mi va Ma vediamo prossimamente Al massimo però Faccio un'oretta Non di più Nel caso Ma ragazzi Non siamo noi a scegliere Anche il gioco E così ci sta mettendo i grulli Non è che Decidiamo noi Il killer Quindi Che dobbiamo fa' Se ci da tre volte I grulli Tre volte Affrontiamo i grulli O per chi stanno i rank misti Strano Perché Come survivor Una volta mi ha dato Full rossi Quindi boh Hai più finito il gioco di Q2SS L'ho giocato per la durata del video Che ho messo su YouTube Ma poi Cioè Non trovo il game Dai Ma solo io Mi ritrovo i grulli Ma i rank 15 So che dirti Un po' di t-back con Diego il deformato Oh 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 Non si se l'hanno levato eh lo spam di Oh 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 Spero di no Ricky Minin Impossibile stabilire la connessione Rimettere Ricky Minin Alza dei quattro mesi Alla sera Zeb Cerco di essere presente ogni sera Ma spesso lavoro Quindi le repliche sono d'obbligo Beh E' incredibile come riesci a A recuperare tutte le repliche Che sono mica poche eh Ah nolla Cioè Nonostante il lavoro Io non me li perdo le repliche Eh Voglio vedere Rush Time Luft Fa piacere Grazie del quartetto eh Mesi Che c'è? C'è? Vigilander Vigilander 47 Quei bis Finalmente Niente pubblicità Vedi? Leviamo la pubblicità Perché la pubblicità Come dire Se segui un canale che ti piace Un po' Cioè Magari non subito ma la certa Ti rompe il cazzo Ti rompe il cazzo Capite? Perché Se uno non vuole fare il sub Va benissimo C'è la pubblicità Quindi Contribuisce comunque un sacco al canale eh Perché la pubblicità su Twitch Funziona bene Però se uno proprio nulla vuol vedere Prime sub News Stroke Wave Grazie del Prime Benvenuto News News Stroke Wave Sì Nell'esercito degli Ace Gamer Speriamo che Che trovi un'altra partita Le trova 3-4 minuti Aspettiamo Quante Non troppo Si guadagna anche Sì sì Anche le repliche Pure le repliche C'è troppo C'è troppa velocità su Twitch eh È un motivo in più per fare il sub Perché Se tu Per quei Per quei quanti sono 5 euro Ora è pure scontato a 2,50 ma Parliamo della sub quando non è in sconto no? 5 euro Tu salti tutte le pubblicità Tutte Cioè Non ti devi rompere il cazzo Cioè C'è la fierezza ininterrotta Secondo me Può valere la pena Per le persone che guardano abitualmente la live eh Se uno è di passaggio magari no Perché mi segui una volta a settimana Però se uno viene qui che ne so 3-4 volte a settimana Eh conviene Perché sennò Che fai guardi da pubblicità Sempre proprio Ah ah uno ha la propria scelta Andiamo un po' qua Ok non è italiano Non è italiano Mi chiederedi Oggi mi sono rivisto il video di infernale Circles of Hell Troppo belli Ma poi quello Quel gioco lì È stato proprio bilinoso eh Delenosissimo quel gioco lì Cos'è ne pensi dell'apprendistato? Un argomento non da Twitch eh comunque Penso che Che sia una cosa un po' troppo sfruttata Io penso che ogni Ogni forma di lavoro Va pagata adeguatamente E quindi non Non mi fa impazzire l'apprendistato Che poi che fanno? Dicono no non ci serve E poi prendono un altro apprendistato Eh Magari è bello sulla carta Ma in pratica non funziona Io veramente Penso che uno debba semplicemente Sera assunto Pagato o pagato Giusto Basta Senza fronzoli Sì Poi vabbè Non sono argomenti da tirar fuori In ingere Dai Spirito Spirito eh Finito direttamente Ok Va bene Però è grullo mi sa Non ha ruin È grullo è grullo Dai C'è rank giallo se vince uguale dai Il drone è comparso in bocca però Ho il minimo arrancore Se finisci il gente lo dico Se finisci il gente lo dico Non voglio stappare C'ha la donna OP mi sa No? Dove Che palle lo spirito Io non ho visto nancore Sono ossessione No non ce l'ha lo solo la donna è rotto Si sente la fiatella Ok bene Spirito ai 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 Ho fatto un totem Ho fatto un totem Ehm Monstrum Monstrum deve uscire nel 2020 C'è da aspettare ancora un po' Monstrum 2 L'1 L'ho finito in tutti i modi Non ha senso di portarlo Lo conosco come le mie mani L'ho già finito Ho fatto tutte le run in uno Tutti gli item Tutti gli escape Ogni cosa Quindi non ha senso da ritirarlo fuori di nuovo Ormai aspettiamo Monstrum 2 Finiscilo In the face Pellaio? Eh stavo a mettere il dito in logo Ah Poggi cazzi voi Grazie dei 3 mesi di sap Questa è un'altra 0 gancio Grazie dei tris Come va Poggi bonzi? Come va l'ancima al poggio? No 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 Vedo un totem lì Eh Si l'ho visto Lo spacco io Ma vuole il rosa vuole il rosa Oh ragga eh? Si si Quanti totem siamo? Io sto spaccando uno Io ne ho fatti due Se l'ho fatto uno Zeb uno Ecco un altro Ne manca uno Ne manca solo uno Sto rompendo Niente di lui Niente di noi Io ho quasi chiuso il gen Io sto all'uscita già pronto Aspetta fermo non lo chiude Perché? Easy Siete allucinanti Oh ma sto più defanta Ah vai Sto già prendo L'altro? Abbiamo fatto non solo tutti i gen Ma anche tutti i totem Attenzione Questa è la dimostrazione Che i totem dovrebbe essere obbligatori Perché già così Facendo anche i totem Abbiamo lasciato Capito? Vai aperto Vai silenzio Zero canci con lo spirito Luba vi è qua? Oh grazie Ma devo portare anche l'altra uscita? Ah! M'ha cacciato E' la scarsa dai E' la gruia E' la gruia Ha tolla Ma lo può grappare eh E' la gruia Ha tolla Ha tolla Anche il clonotto raga Mamma mia Bullizzato Oh Dio Oh Dio Oh Dio Gniello Senza nulla C'ha solo il cappellino C'è mi da Oddio Adesso Buda mettermi perche almeno Non so se l'hai Uno ha chiesto il chat Ma non mi sentite male dentro Cosa che Io mi sto senti Io mi sto senti Un po' una merda Un pochetto Però Però Questa è Bule Ma questo è dbd Non è che bule E' così che si gioca Rashi gen Spezzi totem E te ne vai Madonna Max di Kronos Bentornato Grazie dei Cinque mesi Di Prime Sub Buona permanenza A te Nell'esercito degli skimmer Poi c'è Poi c'è Federup 67 Tier 1 sub Benvenuto Buona scelta Benvenuto Qua da noi Ben arrivato S88 200 bits Ancora Ho visto i tre cavetti di ieri con la nurse Sto ancora ridendo Madonna Lì mi sa che c'era lo sniper Con la chiave L'ho beccato subito Incazzato Naruto Si è incazzato Perchè l'ho trovato nell'armadietto Nell'armadietto E ha scavettato A me mi fa vedere che non hai messo il ready No no l'ha messo L'ha messo Si è baggazzo Dove rifare la lobby No no Tu li ti rimetti dei ready No no Si è baggazzo Si si sarà baggato qualcosa Eh i cavetti si Poggi bonzi boy Mi fa anche il cheer Poggi bonzi caput mundi Grande zeb Un abbraccio No dai non è un posto malvagio Anzi Non vi era arrivato all'invito? Si sto in lobby Ecco non vi vedo Madonna Non ci vedi stiamo tutti in lobby Oddio Eh a toccare avvia dai No aspe aspe Riproviamo Aspetta No non c'entra nulla Vediamo se Ditemi se entrate eh Ci sono Io vedo tutti Anche io Niente non vi vedo Riavvia dai Riavvia dai Riavviamo il gioco No aspe 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 Ora ora funziona Si ora siete entrati Si si vedo Naruto e Lubansky Solo il fantasma non vedo Eh l'ho rinvitato Arrivo Gioco schifoso Me vedi? Ok Ora no Ora no Vedo solo Lubansky e Me valuta Eh io lo vedo Qualcun altro faccia la lobby dai Aspetta forse Mo entro boh Vedo tutti quanti raga Assurdo Vabbè provo a falla io Ciocco del cazzo Vedi vedi quale è il problema Vedi quale è il problema di dbd Bugghi bug Fanno aggiornamento Buggato Aggiornamento Buggato Buggato Il palasso Ti ha invitato Gita Calvenzano Ma che è Pellaio Si è vero Pellaio Non lo vedo L'invito è arrivato Quindi è entrato L'invito io Sei arrivato? Ora si Ciao Zeb ti confesso che non aspetto altro che un fiori ritorno su Welcome to Da Hola Prima o poi Prima o poi arriverà Prima o poi arriverà Ehm Coroleva Grazie del terzo mese Grazie del tuo Tris Qua con noi Stasera Il rinnovo bello Ci si vede domani 10.41 Eh si Lo sempre Eh Esset88 Per la donazione di 5 euro Da Esset Eh Il bz Il sab Il tris Tutto proprio Per offrirti da bere Anzi Eh lo farò appena finita questa live Lo farò non appena si conclude questa live La prima cosa farò Sarà andare a bere qualcosa di buono e di ghiacciato Soprattutto Eh che ancora Pensate Non mi hanno sistemato L'aria condizionata È arrivato uno No ma Non è del marchio giusto Non è di mia competenza Vi devo mandare un altro Ok Arriva l'altro Ah no però io non ho la scheda elettronica Deve avere un'altra azienda Con la scheda elettronica E ora sto aspettando il terzo Ma porca puttana Ma che è? Un missile nucleare No Eh no Aria condizionata Niente Morale della favola Sarà sistemata Quando Ormai L'estate sarà completamente finita Quando farà fredda Addirittura Quindi la fa il killer Eh Però avete visto quanto tempo abbiamo perso Solo per sistemare la lobby? Grazie dbd Grazie Grazie dbd Se hai guardato Annuntato Dreadfede Quello è un pezzo di storia Sì ma per preparare un condizionatore Sembra che devi Di Fare un armistizio Cioè Ragazzi dai Parca puttana Trent MC00 Pure lui ha voluto Ha preteso Di far parte Degli ace gamer Con il suo prime sub Benvenuto Ciao Trent Ma sta cercando sicuri? Vediamo Boh Si sta cercando Un altro rank 18 Qua c'è scritto Procurando Uma partita Uma No io trollo se Mi sa che metto il perk dell'armadietto Per stunnarlo Eh no no sai che facciamo? Ci facciamo stand Ci facciamo stand Allo shack Dove stanno l'armadietti Appena c'è grabba Uscivo Aspetta non lo metto Se ne le grabba Gli tocchi il palato Andiamo tutti nello shack Ci sono tre armadietti No? Tanto ho messo il terk Aspetta E' tedesco vai Mette il perk Vai l'ho messo eh Lo devo cercare C'ho 300 cose Vai ho l'ho mazzo Ora la metta lo shack Si fa rumore mette la ma di... tanto mi sono un ben di coglione sono troppo scarsi se c'avevo il perk sbloccato di survivor nuovo quello dell'armadietto lo mettevo così siete il male peggio del pazzo versione vecchia però bisogna fare un rumore non due perché se no è troppo ovvio però bisogna fare un rumore allo shak una volta poi mette l'armadietto madonna prevede un fail madonna se ci casca madonna eh ma qua non c'è lo shak si c'è c'è guarda lo shak è mandriano è pericoloso questo a ruina attenzione l'ha visto l'ha visto mi sa no l'ha visto l'ubanski no 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 vole me l'ha visto l'ha visto manca oddio l'ho pulizzato col perk stai usando stai usando donna stai usando ma questo è il demetrio ma che mi ingozzano bastai allo shak si 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 l'ho già usato in faccia il perk vengo assaglielo pure io no no vai al palle vai al palle no pensavo che stavano seguiti eh eh prego no peccato eh sennò stunnavo eh potessi madanna eh però non c'è rimasto eh devi sembra vedere se va via ora eh ma devo portarlo via vado via se no non si leva dai coglioni lo porto via arrivo è venuto nella mia direzione arrivo arrivo sto a venire a far sì vai 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 rifaccio il cishino decisivo nooo ah 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 peri no vi c'è vi c'è Sei pronto? Sta per entrare nella porta eh? Porto qua. No perché non sei uscito dalla cosa? Eh io non ce l'ho, non ce l'ho ai donne io. Ah. Quanta sta sotto. Si ora vince eh, ora vince si trolla. Mi ha preso, mi ha preso. Va a ressare, vai a ressare. Eh ma cosi metti due nel basement? Resta, resta. Resso, resto. Pensavo avessi head on, capito? No, io no, io no. Volevo triggererlo perché avevo il b-strike ma niente. Vole me eh? Mi viene a tirar giù eh? Non è qua eh? Arrivo arrivo. Eh ho fatto il fail perché pensavo che Lubansky avesse anche lui head on. Ma non ce l'aveva. Così lo stunnava lì per lì e mi salvavo. Peccato. Ora metto, metto di nuovo le ramadette eh. No vuole, vuole il coso, vuole il fantasma. Sì vale me. Non prima io vado. Oh. Mortacci su, c'è resistente alla luce. Ah. Sto accamperando Vai curiamoci E maturna secondo me Io vado lo sciacchio Mi vuole Se sei spirit sopra Spirit Fury Spirit Fury aveva Spirit Fury Enduring Pol James Plano Eh cerca di farlo Spirit Fury Enduring che merda Si le afflussinate Salvo Vabbè curiamoci Torna 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 Eh io muoio Cerchiamo di finir gen 3 Mammo di cosa Va su Me le metto su un pallet raga 1 e 2 So su un pallet So su un pallet io L'ha lasciato Qua ti ho recuperato io Manca pochissimo Ho full recuperato Ha visto me ce l'ho io Mi prende Vai vai finiscilo 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 Eeeh È una parola Mi prende, son morto Son morto Peccato Mi lascia, mi lascia, mi lascia Ma che cazzo Eh, la faccio apposta, body raga, body body Eh, ma non fateli ammazzar No, occhio Recupera, recupera un tanto Sto recuperando Ah, è scarsi la donna Eh, però, lì ha fatto la furbata Fai una rucuta, cura Ah, io ho il primo gancio, dai, dai, andata, andata Eh, l'exit va aperto, guarda O tu guarda il first camp No, no Io non c'è il borro, eh Io non c'è il borro, eh Io non c'è il borro Di scampere Io, io no Perché abbiamo messo la cazzara Apri uscita io, apri uscita Apri uscita, no Vabbè Vabbè Eh, c'è resistente alla luce, hai visto quanto è tutto il partito prima Sì sì, vabbè uno su quattro con l'altro il build, dai Sì, abbiamo lo stracazzeggiato No, ma almeno c'è stato un po' più di pepe, dai Eh, sennò è noioso, dai Sicuramente Sicuramente Io la rifaccio stantino È troppo bello No, ma è troppo bello È troppo bello fare così Sleeve Walker Ma io no È successo Ma stanno ancora in partita Il primo esperto vi urla al palato Dove stava l'altra? Eccola, eccola Oh Dio, che rischio Mi stavo a far sdelfinar Sleeve Walker è il Dani Grazie per i vostri Prime E benvenuti Nell'esercito degli Ace Gamer Scarpa 92 Apprezzo il sesto mese Come sta Sedermoshi? Chi è? Una persona Seder Stronchi Resistente alla luce Jack and Dax Guarda che ho messo Quarto mese per te Grazie dei quattro mesi L'esercito degli Ace Gamer Grazie per i nuovi Bentornati O benvenuti Poi mi trovo io le Ners che slaggano Eh, noi abbiamo trovato Un Guzmarolo Abbiamo trovato il Guzmarolo Eh, no Naruto lo vedo in game Ok, adesso no Chi è? Ti sei messo che è Don? No, stavo a vedere se ce l'avevo con qualcuno ma mi ha messo ce l'ho solo con lei Eh, Don Oh No, ma sarebbe bellissimo quando uno viene atterrato e lo grabba Uno esce qua e Don e lo libera No, no, uno si poteva fare a terra apposta davanti a un'armadietta Sì, esatto, esatto E quello è il killer di spalle Eh, il killer va lì Eh, però, però, si mette di spalle Perchè non vuole aprire l'armadietta, no? Si mette di spalle e poi Eh, ma è rischioso perchè, insomma Però è da fare Se si vuole provare per cazzeggio Sì, però, non ho Shaq che bisogna farlo Sono proprio cattivi, eh Un belenumosi proprio Basta sto sassolino, basta Palle ste lobby Che poi, oltretutto, giustamente, la gente esce dalla live quando c'è la lobby e rientra quando inizia il game E fanno bene, eh Fanno bene Però da noi a me anche Perchè, cazzo Se il gioco fosse come Cristo comanda Non ci sarebbe questo problema Eh, oh Il gioco è così San Andreas gratis con Rockstar Launcher Sì, peccato che sia la versione tagliata Senza ottimizzazioni Con i bug Con i 25 frame al secondo Al posto Dei 30 frame Eh, con... Con tante puttanate Che... che la versione Pacciata Moddata, però pacciata Non ha Quindi è una versione grulla Una versione proprio Grulla No, io metto lo Shaq Per vedere Gli faccio... Oh! E' un po' 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 Pronto Pronto Carabinieri Che comunque nello Shaq Ci sono tre armadietti Non ce ne sono quattro Insomma Ecco, qua c'è Adesso Shaq Io ci so già Aspetta, non fa rumore Aspetta che arrivo Sta sotto il palazzone lo Shaq Che pallo dov'è? Io sono già dentro l'armadio E' a trovarlo E' il palazzone centrale Il palazzone centrale C'è il ruine Comunque è all'uno Ma non lo trovo Cazzo E' il tempio centromappa Tempio centromappa, raga Eccolo, ho trovato Scaccia le mosche Si, ma vieni qua e mi allusa Eh, non ho trovato Un po' se lo vedo Noi c'è la con Naruto Ci sono solo due armadietti Sì Va portandolo Da Naruto Vieni al basement Dove sta al basement Ah qua Al tempio centrale Ok Nei sotterrani sotto Arrivo Avviene o no? So cui Al tempio Cosate voi Dentro Shaq Vai mettile metti Vieni vicino al mio Vieni vicino al mio Vieni vicino al mio Eh, troppo lontano era Vabbè dai Troppo lontano Oh infernale Se riesci mi ricarico i tonne e mi metto un allarme dietro No, 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 no No, no, no No merda, lo sfinimento Facciamo Ecco Quello che succede Vabbè dai ora ci salvano dai Il problema è che non c'abbiamo Io non c'ho il borro adesso eh Mi sono ferito No quel wifi dai Cos'era quel wifi dai Cos'era quel wifi? Cos'era quel wifi? Mi mette qua accanto al cosa eh Ma ora comunque si è fatto furbo eh No, che cazzo ha fatto là? Niente, eh, non sono riuscito a fare donne Sono uscito lentamente invece che velocemente Deve tenere shift sempre Eh, sì Eh, non siamo abituati a cazzeggiare No, è la prima volta che uso sta donna Per quello Sto perk Per quello mi so sbagliare Però lo trollo io, spero For the science Vabbè, ho messo un drappoletto No, mi è giunta Ma per il senso hai visto? Andato ora indietro? No, non è vero Ma come un buono? Andato ora indietro Ma che cazzo Decisive Io l'ho fatto apposta No, ma mi è vero Mi trai... No, no, no! Comunque il ragazzo non mi riesco a trovarlo Vabbè lo devi fare il gender Non si perde Che velenosi Velenosi proprio Inganchierite Cazzato Ho lasciato Mi avete fatto Tutti in strike Mi stava inseguito In sicurezza Riguardato nell'armatico Sicurezza Non si sa mai Roba da pronto carabinieri Sì esatto Che vieni Scherzo le mosche C'è la muschia Ci avrà il nome destra ci tronda poi Se si è una testa Figuro Un ba di narutino Il generatore in fondo l'avete fatto? Ti ama guarda 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 È fatto Guarda come te vuole C'è un altro laggiù Lo vedo Ma mi fa ridere che anche se trogliamo Riusciamo a lasciare con il ruin tranquillamente Mi fate sbudellare Mi fate sbudellare Mi fate sbudellare No Mi fate sbudellare Mi fate sbudellare Ma che c'è? Strasciti Mamma mia roba Non la si trolla eh Dove sono io c'è il ruin Eh bene Sto spusando il fegato Ah non c'era la tratta Sta cura che si attiva dopo madonna Eh da fastidio Guarda il ruin Cosa sapevo che mi trova la tratta Cosa sapevo No No Di quella speranza Si passa davanti all'armadietto Via 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 No No Che volevo fare raga Lascia il cosa Fate il gen C'è un altro gen lontano Fate il gen E' proprio il divore raga Eh appunto Fate il gen Non sto nada Ma io lavoro sul gen Ma io lavoro sul gen Eh quel totem è il ruino o divora? Non lo so Ho trovato il totem acceso Lo sto spaccando Ci sono due potrebbe essere il ruino o il divora Speriamo sia il divora Sì 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 Ora va via l'icona del teschio Beh vediamo Quasi fatto Bene Sì 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 Ho messo trappolino Ho messo trappolino? Non mi riguardo avanti al me no Ho messo trappolino Sì 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 C'è un armadietto vicino al pallet Io sto dentro col petto Sì Venite qua se fate stand Dove ha sganciato Naruto Eh sto lontano a far gen Quasi finito eh Ho più una russa passata qua Eh lo prendo lo prendo Forca tu non parte dei gardi o Cioè ti strike ancora? Vai 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 Oddio No Niente annoyed però Niente annoyed Dove è scappato? Sono morto Quello era il ruin Rip rip Il ruin finale a sfregio Aprite l'uscita Ah lo sto cercando Mi vuole Dove stai? Eh vicino allo Shaq Ora mi sono allontanato allo Shaq Sì Sì te vedo Faccia le mosche Sto aprendo un exit Dove era Apri quello dello Shaq Sì mi metto in quest'armadietto aspetta Aspetta Sì sì te ho provato Vai 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 Vengo ad apri quello dello Shaq Ma non è che perk trollo porca miseria Ha iniziato adesso ad apri dietro lo Shaq? Ne vuole Sto a metà E' aperto praticamente Andiamo Lo vedo No mi vuole Mi vuole ancora oh Come sei che ti faccio body Eh Dovete apri l'altra uscita L'altra pure vedi vuole me guarda 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 Cazzato Ci prova ad apri pure l'altra Vai vai Mi vuole mi vuole Emo bene da me sicuro E' al 99 praticamente Se no c'è quella lo Shaq ha aperto No mi prende mi prende Peccato non so molto però Quasi Quasi Lo stai Fanta No merda Per un secondo mi si attivava Mi sentivo malvo Eh Per un secondo non si attivava Vabbè c'ho il Decisive No non ce l'ho il Decisive Però... Io non ce l'ho al bordo Sei Fanta No Vabbè prova L'Exit è quasi aperto Vabbè Flashlight save Flashlight save Non ti provo Potrebbe girarsi eh Potrebbe girarsi eh Ti caccia Comuncio a strisciare Vieni 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 No troppo tardi Eh è girata Vabbè il GG Vabbè il GG Che sfiga Che sfiga Era chiusa sta porta Peccato ma tu Vabbè un secondo Non si è attivato la presa Stunnata Poi è stato troppo divertente stunnarlo Sì ma no Che disatte Tip fatto comunque eh Non è che... Eh vabbè Mi sa che mi metto una torcia ma... Per trollare è buona la torcia Sì Lo stava sempre a scatarà Stava lo sponsor da Benagol Ahahah Perché trovate solo rank bassissimi Il gioco ci mette quelli eh Che dobbiamo fa' Grazie Rick1275 Per il settimo mese di sub E' intornato Da noi Grazie della di conferma Della fierezza E' o... E' o... notte ragazzi sparecchio e vado a nanna buonanotte mappetta rossa due torci il gioco che gioco troll comunque ha un killer forte queste cose ne le fai facilmente se sono killer proprio bravi insomma non si fanno bullizzare a questo punto ciao gioia nera buonasera la so che ho messo due batterie ma sono staccabili sono main strega mi sto mangiando le mani perchè sei forte o la strega vogliamo vedere contro il dream team voglio vedere come te la cavi con il dream team ti facciamo rush and loot devi andare di spirit on earth se no insomma la vedo difficile massimo fai uno su quattro se giochi bene può essere che lo fa ho solto adrenalina o ho messo il borro ce l'ho anche io mi sono messo le donne e veloce e silenzioso lento rumoroso oddio se beccavi quello stun alla fine madonna madonna io mi stavo sentin male madonna se lo beccavi era proprio best moment di bd mi strezzavo il gallo se lo beccavo il palazzo perché lì il palazzo io tu capito lo accarezzavi proprio lo accarezzavi si retta c'è la fortuna per tutti eh con la viola la spudenza la spudenza ti piacciono le auto elettriche beh sono sempre più carine di quelle normali però non ho la patente non mi interessa guidare onestamente non ho questa passione dei motori di per me l'intento quando entro in un'automobile è di arrivare dove voglio non perché mi piace fare il viaggio di per sé anzi eh sì mi sono fatto qualche punticello per livellare il demo scrotone è vero è tutto lì il guadagno e non mi bastano nemmeno i punti che ho fatto sono pochi eh che poi l'auto è una spesa un fastidio è tutto manutenzione assicurazione riparazione madonna che pavle come avere un figlio ancora quasi sono già davanti allo shack siamo tutti davanti allo shack allora vediamo se arriva mi metto qua anzi iba il denuncio ucciolo ecco cicero senza ruina appena sentivo ww tutti in armani che è così Sono già nell'ammatetto io, eh Senti, vicino agli ammatetti Oddio, che liscio Eccolo, eccolo, raga Ti sto a quello vicino alla finestra Eh, tanto, mo' ci ripassamo, eh Eccoci, eccoci Nooo Do-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru Sto armadietto, sto armadietto Cosa sei? Raga ricordatevi l'affaticamento Poi non ve lo fanno a voi donne Le donne funzionano pure se sei affaticato? No, no Mi sento male No, 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 no No, 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 no Puliziamo qua Mi sto recuperando Mi sento male Mi sento male Oddio Ha prendato fuoco al mondo Aspetta No vabbè Ma tanto non ci torna ora Non ci torna Vieni lo Shack Vieni lo Shack Mi lascia, mi lascia Non arrivo eh Sto ora ho quasi recuperato la fatima Mi vuole che vuole Fantasma vai nell'armadietto che mi vuole Arrivo, 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 arrivo Quando fa il gel ne fa l'affaticamento questo Non vuole me Sto nell'armadietto quello vicino alla porta eh Sto in quello Arrivo, arrivo, arrivo Vediamo se mi insegue Oddio che lag Fatti seguirle a me Ma come la non viene qua? Non viene qua? Non viene qua? Please no, don't bully me Comunque se vi rincorre è andato allo Shack Che io mi metto nell'armadietto accanto alla porta Così lo stunno C'è un genne qua Va troppo ride che non vuole venire Oppure mettiamo se qua Lo sentivo Sì pure qua c'è un loop eh C'è paletto in mezzo Uno da un naso Uno dall'altro Si Si Dramatizzato Eccolo Sì Non lo serve Non lo fare Così avrete Un loop ragazzo Sull'altro lato Allo Shack Allo Shack Aspera, aspera è rimasto lì? Qual è sei? Questo Sempre massimo Oddio Nooo Nooo Ripalato Rip Hanno preso lo sdelfinatore Un body Sei libero Eh, so, so ferito Troppo lontano Eh, Lubansky Sei lo Shack? No Aspera da recessimo Vuole me Vuole me Nooo Tornandietro Vai, farmatome pure Si Tornava a me suppressed zus sto dentro il doppio armadietto dentro il doppio armadietto la passaci no lievita manca non è capito ormai c'è il design proprio il flash light venga no don fanta sto all'altro lato sto all'altro lato fanta non ci passa non ci passa io ho fatto quattro head on oh dio oh dio troppo divertente usami come ti faccio il flash light save ho preso ho preso oh oh questo è un coglione flash light save aspetta ci sto pure io ma come no 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 oh dio pulizzo pulizzo no vabbè se non quinta questo ti fa nana staglia che fanno ma lo finiamo con il gen ah come apre l'armadietto sta ingangherito fracico po oh dio mi curi mi curi l'armadio a fai le donne praticamente Aspè io ce lo carico di nuovo Anche io Lascio un genio a 99 Sto a quello singolo Passaci accanto quello singolo Quello singolo vicino al gen che è a metà Ah ok ok Aspetta, me lo rimetto io Dove sei messo? Anzi no l'altro 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 Quello è il doppio il doppio si Il doppio il doppio ci sto ci sto la bella la bella stappando a rolar o no oh se lo finisco o no Tanto mi curo un tanto Fate il gen, dai Nooo, volevo divertirmi ancora Vabbè, l'altro c'è un'altra partita Guarda per te, è deluso No, arriva, arriva, arriva Vai allo Shaq, dai Io sto aprendo vicino allo Shaq Andiamo dallo Shaq, dai, lì si trolla bene Vai, ho recuperato lo sfinimento Shaq, Shaq, Shaq Che sto? Che fa? Non viene Sta arrivando allo Shaq, eh? No Ti curo che ruba Lo porto all'ammadietto, eh? Sta arrivando No, non viene, non viene Non viene Apri l'uscita Ma cazzo Cura, cura Oddio, angoletto in punizione, angoletto in punizione raga Ah no, ha usato il portale Se n'è andato Se n'è andato Vabbè andiamo Ma all'altra uscita Andiamo da Sì Abbiamo bullizzato abbastanza direi Ora anche 20, regà Ditevi in colpa, vergognati Io avrò fatto 4 e don, 4 o 5 don Non lo so Se è fatto Ho fatto pure il peep Ma anche 20, oh L'ho fatto pure io Perché c'è un perk solo Dai, voraccio Rank v Sì Grazie Sharing Game Ganever Per i due mesi di fila Tre totali Fiero Di sopportarti Gigetto Grazie del due mesi Grazie del tuo bis Nell'esercito Degli Sime Avete creato Un serio Il gioco è così Prendi punti C'è La miglior serata E fin quando Non ribilanciano i rank Poi Il divertimento Finirà Quando ribilanceranno I rank Vedrai Fin quando Sono scarsi Ma Se sono forti Insomma Alla prossima Blue God Goku Madonna Madonna Andiamo Non volevo più Andare allo Shaq E lo Shaq Non era di suo gradimento Eh oh Si potrebbe fare Funny Moments Parte 2 Peccato che Vabbè Che Youtube Non paghi un cazzo E a me costa Fargli fare quei video D'altri Non è che li fanno a gratis In vantaggi Giustamente Vogli essere pagati No È giusto Però se Youtube Non mi Farò sto investimento Allora Farò sto investimento Una serata Veramente Io mi sono sentito male No ma E stava a ridere Troppo Troppo Assurdo Assurdo E li ha presi Tutti gli edon Tutti dal primo All'ultimo Vai È russo Vai Ma questo Dai ce la faccio Mi scoppia un pormone Ma è quello di prima Laga un po' 130 Paranza 120 No se è un altro Demogorgone Mi sento male Però Avete visto che ogni tanto C'ha la paranoia Controllava Arma Tieti La paranoia Priva Così controlla Io riesco Magari Sa ancora Che riga Qua si trolla bene Non ruine La vedo brutta Per il killer Lo spirito Eh allora niente Si può provare Si è scarso Non ci conviene lasciare un po' Sennò Sì C'è passata davanti Niente No Mi ha grabbato La donna Non l'hai sentito Arriva Non hai sentito La fiatella No Ottimo il battito Allora Non è detto Che la donna Rotto Col battito Non l'ha sentito La fiatella Il basement Eh già Stavo a farlo Il genere difficile Fatto Ma Lo faccio Magari Io arrivo Peccato Lo spirito Che no Noia Non spirito Vabbè io ci provo A trollarlo Se mi seguo Ci provo Tentativo Lo faccio Iden Menta fresh Ok Il dentifricio Del prime Benvenuto Nell'esercito Degli Che schifo Siamo la ptb No 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 Siamo in ptb E' tannerato Buettino Mi credo Siamo terzo Ti sento Se mi muero Mi sento Per perdere No Mi sento Menta fresce C'è l'identifica Bianco non fa niente va via presa presa ma dove stai? nella casa a due piani mi vuole mi vuole ma se stai ancora la arrivo si si arrivo si si la sto lupando la macchina fuori dalla casa dimmi quando sei in posizione siamo quasi alla casa sia io che fanta ma non sento te batti ah si 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 eccolo va su va su mi lascia vuole me fanta io sto all'armadio di sotto quello vicino alle fine esatto quello zeb esatto questo questo ma sei sopra si sotto ah sotto si è dove sei passato prima ci sta il fanta davanti a me vai 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 fai prima tu eh lubba ora ci ripa ahahah non ci ripa ahahahahahahah ahahahahahah DUMBLE STURN Mi vuole mi vuole E' lo shot si cambia direzione Mi vuole mi vuole Ci ripasso Cavalca Ci ripasso eh Madonna Qua stai finito un gen Eh vai Si rect Oh io muoio allora Oh Dio Muori Arriva dall'exit No 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 C'è un rancore I nari Naru se stai alla casa passa sotto Ma vuole mi vuole mi vuole me Mi ha quitato Mi ha quitato Zeb passa Aspetta Se stai sulla casa va al piano di sotto dove ci stanno tutti gli armati Eh sta la cantina Eh c'è sta la stanza dentro con tutti gli armati Noo è in cantina cazzo Riapparsa col potere Guarda Noo è in cantina cazzo Nooo Eh quasi Ma non è bastata Primo gancio Anche 17 con Noo è in cantina cazzo No te non puoi fa niente con il rancore Eh distratto Bella 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 Ah ola Ma devo riuscire a trollarlo un'altra volta Dai Ah c'è gara Se gliela fai Fanta Portala di sotto Do c'è sta la stanza con gli armati Ti caccia? No Ce sto Dai da la stanza con gli armati Perfetto Sto a quello centrale E lei mi ha cacciato dall'uscita Peccato L'ho beccato perché no con la torcia Eppure Non è bastato Fa un po' di casino Sto accanto al tuo Fanta Mi sa che non vido Assume Humiliata la famosa famosa bella fanta era ancora come apparsa mamma mia oddio vabbè partite incredibili roba da matti roba da matti ma giusto così ci potevamo divertire altrimenti erano noiosi erano bella bella grazie dei game zeb vai a voi alla prossima con questo bel gioco fantastico insomma una serata particolare avete visto una serata particolare ringrazio per averci seguito lo squad stream ma ovviamente anche a tutti i sub re sub donazioni beats supporto immenso fantastico mi sono divertito non mi sarei divertito a giocare normale quanto quanto in questo modo perché c'è più pepe come dice rubansky c'è più rischio metti il culo sul piatto d'argento no rischi così l'adrenalina che ti pompa nelle vene è quello che ti diverte poi vabbè trolling e trolling però fa ridere e rischiare più che altro no usare dei perchi insoliti per usare di più a me diverte quello avete una sintonia innata ragazzi ci becchiamo domani con qualche so qualcos'altro magari un'apertura forse una run di isaac se mi va di nuovo alfio femmorini poi vediamo un po di sbucciare qualcun altro se il team c'è io ci sono waxnichronos grazie del cheer di chiusura mamma mia che belle partite il top seawarsfynx sei mesi nuovo badge per te grazie del resub periporku quattro mesi robellewandosky diciannove tre mesi sempre più fieri con le tue live ragazzi a domani ciao ciao